Benvenuti nel canale spettacolo 24. Canale di intrattenimento attraente e interessante. Ieri sera, domenica 15 maggio, è andata in onda la puntata finale di Amici 2022, che ha decretato il vincitore dell'edizione numero 21, scopriamo chi ha vinto la finalissima tra il cantante Luigi Strangis e il ballerino Michele Esposito. Ieri sera, domenica 15 maggio, è andata in onda la puntata finale di Amici 2022, che ha decretato il vincitore dell'edizione numero 21, scopriamo chi ha vinto la finalissima tra il cantante Luigi Strangis e il ballerino Michele Esposito. Leggi anche, Amici 2022 ieri sera, chi è Luigi Strangis, il vincitore tra i cantanti? Età, ex fidanzata, Carola, genitori, diabete, malattia, canzoni, tondo, di dove è, Instagram Amici 2022, chi ha vinto ieri sera? I protagonisti della finalissima di Amici 2022 sono il vincitore della categoria Vallo Michele Esposito e il vincitore della categoria Canto Luigi Strangis, che durante la puntata hanno battuto gli altri finalisti, guadagnando i primi posti della propria categoria. I due artisti si sono scontrati al televoto, il vincitore di Amici 2022 e, Luigi Strangis. Amici 2022, quanti soldi ha vinto Luigi? Luigi Strangis, quindi, si porta a casa ben due monte premi. Quello come vincitore di Amici 21 del valore di 150.000 euro in gettoni d'oro e quello come vincitore di categoria Canto del valore di 50.000 euro in gettoni d'oro. Amici 2022 ieri sera, chi erano i sei finalisti? I finalisti di Amici 2022, eccezionalmente rispetto all'edizione di tutti gli anni passati, erano sei, quattro cantanti e due ballerini. Ecco di chi si tratta, Sissi Michele Luigi Alex Albe Serena Amici 2022 Finale ieri sera, Albe primo eliminato la finale di Amici 2022, andata in onda ieri sera, è iniziata con una gara serrata tra i cantanti finalisti Alex, Albe, Sissi e Luigi. I ragazzi hanno cantato i loro inediti e sono stati giudicati dal pubblico a casa. Il pubblico ha deciso di premiare Luigi, Sissi e Alex. Albe, quindi, è il primo eliminato ufficiale della finale di Amici 2022. Amici 2022 finale ieri sera, Sissi seconda eliminata la finale di Amici 21 è proseguita con una nuova sfida di canto, i cui i finalisti hanno cantato tre cover a loro scelta. In questo caso a non superare il voto del pubblico a casa è stata Sissi. La cantante ha ricevuto molti complimenti dalla giuria tecnica e Maria De Filippi le ha dato la possibilità di cantare per la seconda volta il suo nuovo inedito Scendi. Amici 2022 ieri sera, chi ha vinto tra Alex e Luigi? Alex e Luigi sono i due cantanti che si sono sfidati per conquistare il titolo di vincitore della squadra canto, ma chi ha vinto ieri sera? Il televoto rispondeva alla domanda, vota il tuo preferito, per battersi contro il vincitore della categoria vallo. Il primo vincitore di Amici 2022 tra i cantanti è Luigi Strangis. Amici 2022 vincitore ballo, chi ha vinto tra Serena e Michele ieri sera? Michele e Serena sono i due ballerini che si sono sfidati per conquistare il titolo di vincitore della squadra ballo, ma chi ha vinto ieri sera? Il televoto rispondeva alla domanda, vota il tuo preferito, per battersi contro il vincitore della categoria canto Luigi. Il vincitore di Amici 2022 tra i ballerini è Michele Esposito. Cosa ne pensate di chi ha vinto tra gli allievi in finale ad Amici 2022? Restate aggiornati con per scoprire in anteprima tutte le news sui protagonisti della finale di Amici 21 e non solo. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!